L'iniziativa Io compro nisseno, ovvero il buon acquisto elettronico da 75 euro, potrà essere concesso soltanto a un componente del nucleo familiare che risponde ai requisiti individuati nel bando. Si riferisce ai cittadini che sono residenti o domiciliati nel territorio del comune di Caltanissetta, il cui reddito di sé non superi 25.000 euro per l'anno 2020. Contributo economico a fondo perduto, che riguarda circa 1.330 famiglie. Che sia utilizzato in unica soluzione o frazionato consente ai cittadini di poter spendere l'importo nelle attività degli operatori commerciali che hanno aderito e che fanno parte ad una long list che verrà resa pubblica dopo l'iscrizione degli operatori economici interessati all'accettazione dell'avviso. I link di riferimento possono essere consultati all'interno del sito del comune di Caltanissetta alla pagina web dedicata. I buoni spesa possono essere utilizzati in tutti gli esercizi commerciali che presenteranno l'apposita richiesta. Tra questi ci sono associazioni culturali, sportive e dilettantistiche, pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, cinema e teatri, servizi alla persona, commercio al dettaglio e artigianato.